Oli chiuse Ma che sta succedendo? Siamo nei guai. Tu non sei nei guai, bella mia. E chi è nei guai? Nessuno. Perché nessuno mi dice niente! Pensano che siamo tutti uguali. Ma non è così. Da adesso in poi quello che fai tu decidi sempre la tua pace. Da adesso in poi quello che faccio lo decido io. No.